Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. In un precedente appuntamento abbiamo visto cosa sono e a cosa servono le sleeve Perfect Size, in questo caso della KMC, ma rivediamolo un attimo insieme per porre l'attenzione su un aspetto. Cosa sono intanto? Sono delle sleeve trasparenti, soft, piuttosto morbide, con inserimento nel lato corto, che permettono alle carte di entrare, diciamo, più o meno perfettamente all'interno di queste sleeve con poco sbordo laterale. Ottime soprattutto per chi vuole una doppia protezione, quindi mettere una doppia sleeve. Ad esempio, possiamo mettere queste all'interno di sleeve colorate o comunque sleeve standard, ad esempio le deck protector dell'Ultra Pro, ma anche Dragon Shield e altre marche, che sono sleeve un po' più spesse, per cui possiamo mettere questa dentro questa qua. Ma quando lo facciamo, soprattutto magari con sleeve usurate, oppure comunque a seconda un po' della dimensione della sleeve che utilizzerete, quando faremo questo, il problema, come già vedete qua, è che diventa difficoltoso, perché si crea un po' la bolla d'aria, per inserire la carta all'interno di un'altra sleeve, a meno che appunto questa seconda sleeve non sia nettamente più larga. Questo ovviamente, opponendo, diciamo, le aperture della Perfect Size con quella più larga, perché se facciamo, diciamo, nella stessa direzione non succede, però andiamo a toccare la carta, quindi è sconsigliato. Quello che vi propongo oggi è una soluzione alternativa, tra l'altro ecco, me la sono persa dentro, la Perfect Size, facendo così. La soluzione di oggi alternativa sono appunto le Perfect Size Side-in o Side-load della KMC oppure della Dragon Shield. Il risultato non cambia. Vediamole attentamente entrambe, facciamo un confronto. Vediamo fuori le KMC, azienda leader soprattutto per le Perfect Size, usate un po' da tutti in tutto il mondo. perché è di ottima qualità e forse sono stati anche i primi a farle. Facciamo anche le Dragon Shield. Anche questa azienda molto famosa e ottima nel campo delle sleeve. L'apertura è qua. Ok, intanto facciamo un confronto proprio di rigidità della sleeve. In questo caso vince leggermente la Dragon Shield che è un po' più spessa rispetto alla KMC. Ma quello che ci interessa maggiormente, dato che comunque faremo una doppia protezione, è vedere come entra la carta all'interno della sleeve e poi questa sleeve dentro un'altra sleeve. Mettiamo Charmeleon nel KMC così è rosso e non ci confondiamo e Pikachu nelle Dragon Shield così è giallo. Perfetto. Vediamola attentamente. Allora, l'inserimento avete visto è stato molto rapido e comodo. e la carta fitta perfettamente, sta diciamo al centro senza problemi della sleeve. Direi ottimo risultato, molto simile appunto alle Perfect Size normali. Mentre sul Pikachu vedo già un problemino che la carta non va, cioè adesso guarda, sto schiacciando molto sul bordo e rimane un po' di gioco laterale, ma così sarebbe l'ideale. Il problema è che quando uno smette di schiacciare si va a creare un po' di gioco sul fianco. Adesso proprio lo spinta molto. Il problema è di inserirla per fare giusto una controprova. Magari facciamo al contrario, anche se non cambia niente. Così, l'inserimento è normale senza andare a schiacciare, rimane un po' di bordo sul lato sinistro in questo caso e va a filo sul destro. Quindi, diciamo, c'è un leggero problema di decentramento e più che altro rimane un po' scoperta sul lato aperto. Però il risultato è comunque ottimo, secondo me. Vediamo come calzano all'interno delle sleeve, queste qua un po' più rigide. In questo caso queste sono delle Dragon Shield in versione Gold, però il discorso vale appunto anche per le Ultra Pro che abbiamo visto prima, piuttosto che Ultimate Guard o altro. Allora, direi inserimento ottimo, non fa bolle, per cui misura ideale, anche la rigidità è buona e vedete che sfilarle è molto comodo perché appunto con l'apertura laterale non si vanno a creare bolle d'aria, non si sfila la carta dalla sleeve, per cui ottimo. Proviamo anche con le Dragon Shield. Mi aspetto un risultato simile. Infatti sì, ottimo. Scorrono molto bene. Tra l'altro appunto Dragon Shield sia la Perfect sia la sleeve esterna, per cui non potevano che andare bene. Anche qua bolle d'aria non ne vedo, per cui ottimo risultato. Per cui questo è un consiglio, un'alternativa più che altro che do a chi vuole fare doppia sleeve con le sleeve quelle un po' più spesse, per evitare ogni volta di aver problemi di inserimento, valutate la versione Sideload. Anche questo è sempre a disposizione del nostro negozio Collector Plaza. Cercateci su Facebook, Instagram e sul sito. Trovate tutti i link in descrizione. Grazie a tutti per la visione. Al prossimo video.